Ragazzi questo video deve assolutamente superare i 1500 mi piace così appena li superiamo toccherà a me andare a Torino a fare qualche challenge che mi suggerite qui sotto nei commenti, bella! bella ragazzi qui i pazzi e benvenuti oggi in questo mio nuovo video oggi ragazzi siamo tornati a distanza di circa due mesi con le challenge a calcio no vedete il pallone, la maglia e dietro c'è Tati lì che sta tenendo un attimo la videocamera che adesso fai un attimo così con la mano ragazzi allora prima che il video inizi vi invito proprio a raffica a lasciare un mi piace perché dobbiamo arrivare almeno a 1500 mi piace quando supereremo i 1500 mi piace andrò io a Torino a fare una challenge magari inviteremo anche qualcun altro quindi ragazzi un'altra cosa che vi devo dire è che questa maglietta è stata adesso un attimo sporca gentilmente offerta da football jersey che trovate appunto il link in descrizione col codice palaz avete appunto lo sconto sul completino eccetera quindi ragazzi direi di iniziare con questa challenge che è una crossbar challenge però da centro campo quindi da là vedete no il centro del campo e lì c'è appunto la traversa quindi cerchiamo di prendere la traversa lì in fondo sperando di beccarla faremo cinque tiri di destra cinque tiri di destra cinque tiri di sinistro e cinque tiri di sinistro direi che si può iniziare inizio io con i primi cinque tiri di destra mi raccomando giù di like perché dobbiamo superare i 1500 mi piace se volete che vada a Torino a fare beh primo tiro ragazzi allora io adesso già so che ne ho beccate fino adesso le traverse iniziamo a registrare 3 ne ho prese su 5 6 tiri adesso non ne becco manco uno nooo non so se l'ha presa però no mi sembrava non va secondo tiro il primo è andato molto vicino però non l'ha preso cazzo vuoi stare in giusto piedi lì terzo tiro di destra per zio palazzo eh lì terzo tiro di sinistra eh lì di sinistro quarto tiro ancora col destro una traversa Signori che piedino caldo Che piedino caldo Ultimo tiro col destro Per Zio Palaz E poi tocca farmi 5 Tantino col destro Poi 5 col sinistra 5 col sinistra Andiamo giù la pappa Ci siamo Un bel like raga E facciamo testo su Adesso toccherà farne 5 A Tatino col destro Io ho fatto 3 su 5 Uno l'ho proprio sfiorata Adesso toccherà Mi devo impegnare oggi Oggi mi devo impegnare Non ne farò neanche una ma mi devo impegnare At Tatino La piazza La palla che finisce A Filadelfia Il problema è che lui si è scaldato il piede Io no Mamma che controllo Come se non va bene Ma do Nemmeno dei ceglie Attenzione Secondo tiro per Tatino Prima era la riscaldamento Ma lui l'alza Eh no niente Niente Perché prima è imbalzato sulla rete Quindi niente Adesso lo iniziamo a prendere Adesso si prepara lui Scalda il piedino La alza E niente Niente Troppo basso Scalda il piede Tatino la alza La palla finisce in Polinesia La palla arriva da Tatino E' lui che la chiama Non è lui che va a prendere la palla E' la palla che viene da Tati Tocca all'ultimo tiro di destro Per Tatino Ed è ancora a zero Vediamo se avrà la sua gioia Attenzione Si vede un attimo il culo No Non lo avete visto Sexy Ultimo tiro per Tatino Lo piazza Alto Su 5 tiri Nemmeno uno Adesso Tocca al vostro zio parla Tocca al vostro zio parla Ragazzi Col sinistro Diciamo che Sono ambidestro Quindi me la cabicchio anche lì Anche se probabilmente non ne beccherò Nemmeno uno L'importante è provarci E' un bel big out E' un bel big out Che infame oh Che basta scappare di me Che infame Palo Palo Continuo Continuo E' veramente bello E' straverso Questo ragazzi è un gran tiro però Io non ho messo un po' di Non ho fatto la renda pena Però davvero è un po' di Andiamo con il terzo tiro Il secondo E' andato veramente tanto così No F*** Non l'hai visto? Mica tanto così E' un po' di questo L'altro tiro Numero 4 Ci stiamo andando così Manca solo la traversa Palazzo si prepara con l'ultimo tiro E attenzione perché qua c'è un fallo L'ha messa un po' più là Attenzione Come nei calci d'angolo Ultimo tiro ragazzi Oh ragazzi dovete farla vola Anche da casa Un bel light L'ola L'ola da casa Si prepara con letto Eccezionale Toccatina E poi Non va I 5 tiri con il piedino Debole Di Tatino Col sinistro Ma che debole ragazzi Leggete qua Attenzione Si prepara Messi un po' ingrassato Secondo tiro per Tati Ancora col sinistro ovviamente Ovviamente non lo farò perché Neanche se spaccate 200 volte il like lo faccio Bello Parte sinistro Una mozzarella Delicata In carrozza Alla Cristiano Ronaldo Bello Anche questa Una Mozzarellina Quinto tiro Prova di tacco Di tacco raga La faccio Me lo sento Di tacco Aia 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 Eeeh Oh L'ho presa Sè 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 È un po' una pippa Devo dire Ragazzi Questa challenge Finisce qui Io vi invito Veramente Vi esorto A lasciare Almeno 1500 mi piace Se volete Un mila Zio Palace Che va Appunto A Torino A fare una challenge A casa di Tati Cioè Nel tenditore di Tati Ragazzi Un saluto A vostro Palace Consigliatemi qui sotto Altre challenge In descrizione Trovate il sito Che mi ha Regalato appunto La maglietta Un saluto A vostro Palace Da Tati Bella Love A 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 Ahahahah